Ho una domanda per entrambi, il signor Schiaparelli allenatore e per il presidente, per l'allenatore Schiaparelli. Hai giocato in modo offensivo, ma la difesa non sembra così ben disposta. In particolare i giocatori Manicardi e Rossetto sembra che non abbiano giocato molto bene. Sta pensando di cambiarli per la prossima partita? Grazie. Grazie. Abbiamo giocato in modo offensivo, anche perché la squadra ha questa mentalità, sia i provinciali che abbiamo fatto 35 gol e anche i regionali, purtroppo ci siamo dovuti difendere. Adesso nei tornei a me piace avere una mentalità offensiva, non avere voglia di vincere, poi i giocatori devono essere liberi, la mente deve essere libera per proporsi in modo positivo nel giocare. Manicardi e Rossetto sono una coppia centrale difensiva, dove io ho una massima fiducia, saranno titolari anche nella prossima partita. Si deve lavorare, capisco che soprattutto bisogna lavorare nella fase difensiva, i riparti sono un po' scollegati, però loro sono la base per il futuro della Fulgor Valdengo anche per il prossimo anno. La domanda per il Presidente.